Ma io non so se lo prendo il mese prossimo a me l'ho preso questo mese così per il meme ma sincero è comunque ingiocabile si si ma oltre ai cheater del cazzo è comunque la cosa la situazione eh si ne ho ammazzato uno bravo ninja chiamatemi ninja buca come vi pare ma questo audio? qua eh? eh andato oh ma non c'è presente che stava all'81 no? adesso sta al 38 42? ma tu ci devi giocare con l'alimentazione si per forza ci devi giocare sempre sotto alimentazione prima di tutto ti performa meglio secondo è normale che si scarica in presso però super lago oggi io e te dobbiamo fare quello in europa brasilia chissà cosa scusa io faccio europa build e poi brasilia non più ci sta europa build non so non lo fai? che bello ma europa build si lo faccio volevo c'è cosa da arrivare qui? vabbè ma 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 ora allora non riesco più a prendere il go se è andato sono diventato così forte che non riesco che il gioco non mi fa più prendere le armi c'era un hit c'è chi lo chiama qui che lo chiama nitch tutti non lo mi hanno messo nitch a nitch c'è chi lo chiama gatto c'è chi lo chiama nicola vola coglione non so più dare ma che è successo niente arriva barbara del vec barbara del vecchi e scrive scrive abbassati like di mano tv capisco come se ce ne avessi già tante pass 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 fermo abbandono un attimo barbara c'è 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 che io sono ben avanti ho fatto due chi vai nitch a è abituale però sei indietro e ancora c'è nitch a a jolly serviva uno da la pc l'ho trovato carica strada guardate che faccio tutto il piede che fai come fa vieni qua nitch ma di dove sei nick per spizio di torbella monaca a sto punto sei di torbella monaca dove cazzo stai romanaccio romanaccio proprio virus è bello che sto nelle marchi hanno noi amm la s s non no 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 chiedo c'è quello che c'era tutto scherzava qualcuno aveva un minico di svolta 151 si va bene una scuota dietro una scala dove stanno qua c'è sotto del garage della cassa azzurra hai pulsato c'è una scuota non calma non è bene perché il mano mi ha fallo il testo è un pericolo ho otto persone si uno uno andiamo sopra 1 1 1 morto 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 l'ho passato io sono mortissimo guarda mi prendo tutto l'altra guarda arrivo man ho 18 shankings, se non lo volete quanto troppo? sono due team di pezzi si, io ho fatto 1, 1, 1 1, 1 si, 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 si si, si, si si, 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 si si, 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 si 1, 1, 1 1, 1 ma che il team mafia non è altro, ragazzi, che non è vero che gli ho fatto che gli ho fatto? ah 3, 6 stop box c'è è morto non lo so vai se volete curare io non lo so non lo so 1, 1, 1 ma che mafia oh tu box guarda 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 lo mani ho eh fillamolo tutto tu sei non ti vedo sotto sotto beh quasi coprimi che oh manu oh manu un primo guy oh oh ciao francesco oh 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 caramello oh come si è scritto ma tutti siamo scapparsi sono paruti sono paruti il volo eh già ragazzi vai lara guarda sono libero aia sto malato sto malato sto malato ah però che pallo ci avete medikit eh no medikit no medikit ah ok no medikit ma qua sotto c'è sta ancora a quel posto ah nemico non c'ho un'idea c'è un'aria qua meno se riesco a prenderlo ma non c'è 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 capito non c'è 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 c c'è un team là ma questo qui sotto più di uno il buco è andato ma per te ma ho fatto un quic ma sono a me come fanno queste cose sta gente c'è un altro passo è un secondo un'altra parte è un certo 116 ehi non andare e rimani qua a sud è un motricento qua un po' sotto nicchia qua io credo che se questo game non mi sentite perchè qui ci metti aspetta tranquillo devo giocarlo aspetta prendo flash andata quattro airdrop tutti nello stesso punto prendo big tua madre è una troiaccia prendo io e me sei grosso anche da sopra la montagna attendo ma c'è uno fermo la davanti giocabile 26 fu la fuori fu la fuori fu la fuori fu di bloccato fu fu di bloccato come fu... è perchè fu la fuori fu la fuori fu questo fu la fuori fu la fuori fu la fuori è morto baby non andare in mare con calma con calma qua c'è uno attaccato è che si va insomma stai il tetto addosso vado a me stavo davanti qua oddio attaccato ai suoni non si vede in punta ho fissato possibile comunque killare chi ti puscia in gola scusa per lo steal manu che sono troppo accratto dalle kill ho fatto 4 non lo ferma lui oddio dove è manu è morto dove davanti qua sopra no sono dove mi sparano 200 nice da me ragazzi la nostra è 91 4 bravo nick bomboclatt bomboclatt quanto male siamo 5 eh tiriamo 6.45 a questo punto il giusto stanno arrestato stanno arrestando quello che non c'è ripulta arrivati da stasera che non si può rassare più gli abiti s'abilitati ragazzi oddio ma mi si paga la skin in questo modo è distorta vado avanti vado questa box è uguale vado ci vuole ci vuole 6 ok vado 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 sei bloccato uno sta tipo per esempio si deve morire a breve vado vado di loco sicuramente vado prima su lui mi ha fatto un zacco dire sei meglio di un paddaro che mi ha fatto vado 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 mister marra mi stava killa vado sul testo ragazzi ho l'ultimo piccone o cecchino dai non è l'ultimo questo vai facciamo un trickshot abbiamo anche il lago qua a mezzo mi ha droppato quello non è l'ultimo e lo facciamo killare vado mi troppa vado niente questo qua col bazooka sta uccicando eh vado a uccidere solo uno eh che cazzo fa sta uccidere che cazzo fa sta uccidere questo qua vedi che sto scherzando eh questo qua me l'ho scavolato ho pissato mi entrano un shot ultimo ultimo questo qua con la granata lo vedo ti vado eh oh l'ho rimatito così non sparategli se no si copre nooo ti ho fatto i l'ho rimatito i i Grazie.